come vedete la tecnica del dottor silvano è una tecnica particolarmente in uso nel sud italia ora ci sarà subito qualcuno che dice ma com'è che sta facendo il bastone perché c'è l'armario dietro se è possibile durante i video magari senza dire parolacce perché altrimenti è difficile poi poterlo mettere online per una questione come vedete Grazie. 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 Grazie.